Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo tutorial vi spiego come abilitare la protezione in tempo reale ovviamente chi la tiene disattivata e non può attivarla per moltissimi problemi che riscontra nel pc quindi ovviamente oggi vi mostrerò due metodi, se non dovesse funzionare il primo metodo passeremo al secondo metodo quindi in questo caso tu ovviamente vai sullo scudo che sta nell'icone, clicchi sopra, protezione da virus e minacce, gestisci impostazioni e come puoi vedere qui dice che stai usando altri provider dell'applicazione antivirus quindi in questo caso noi stiamo usando un altro antivirus, io ovviamente sto usando Avast, quindi in questo caso se io disattivo questo, disattivo anche questo e se vado su programmi, installazione, applicazioni c'è Avast e io disinstallo Avast, quindi in questo caso poi disinstallo completamente l'antivirus riavvio il sistema operativo e si attiva, lo puoi anche attivare manualmente oppure si attiva automaticamente la protezione in tempo reale quindi in questo caso non userà più l'applicazione antivirus che sta a parte quindi in questo caso tu potrai attivare la protezione in tempo reale senza un antivirus installato sul tuo pc quindi in questo caso questo era il primo metodo editor criteri di gruppo locali lo puoi cercare qua sopra scrivi editor di editor criteri di gruppo questo qua una volta fatto andiamo su modelli amministrativi poi andiamo su componenti di windows scendi fino a giù fino a trovare microsoft defender antivirus e poi c'è la protezione in tempo reale ed eccola qua disattiva protezione in tempo reale io ci clicco sopra e dice che a me non è configurato quindi se adesso vado su attivata, faccio applica, faccio ok, chiudo qua e riavvio il sistema se non è attivata la protezione in tempo reale la devo attivare io stesso manualmente quindi se hai altri problemi commenta se ti è stato utilissimo questo video iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao